L'Atalanta batte il Milan per 3 a 2 in una partita che ricorderemmo negli annali, una vittoria allo scadere, lo stadio che esplode, emozioni, colori e sensazioni che allo stadio di Bergamo non si vedevano da un bel pezzo. Come al solito faccio alcune considerazioni ovviamente a titolo personale, poi voi nei commenti siete liberi di dire la vostra. Sulla partita c'è poco da dire, l'Atalanta ha dominato l'incontro e ha nettamente meritato la vittoria. Con grande onestà io non sono solito a romanzare le partite, per quanto sia stata una vittoria clamorosa non è stata una partita perfetta. L'Atalanta ha sedivorato diversi gol, errori in marcatura nei gol subiti, insomma le solite imperfezioni ci sono state. Ma la differenza rispetto alle altre occasioni è che l'Atalanta questa volta non ha mai mollato. È stata raggiunta due volte, non ha mai mollato. Sbagliava, si mangiava un gol, alzava la testa, ci riprovava. Ha corso per 90 minuti, ha pressato per 90 minuti, ha mostrato una determinazione, una compattezza che onestamente non si vedevano da queste parti da un sacco di tempo. Sicuramente il merito va ai giocatori che ci hanno creduto, ma io penso che un bel pezzo di merito vada anche al mister che è riuscito in qualche modo a ricompattare il gruppo dopo la brutta partita di Torino a trovare e a dare le giuste motivazioni alla squadra, perché sono le motivazioni che poi hanno fatto la differenza. Non arrivi allo scadere in area di rigore avversaria se non ci credi fino in fondo. L'impressione è stata per 90 minuti che l'Atalanta ci credesse, che l'Atalanta non volesse accontentarsi, che l'Atalanta volesse dare una prova di carattere non solo ai tifosi, ma anche a se stessa. Probabilmente la partita di Torino è stata scioccante per tutti. I loro stessi giocatori in primis hanno voluto dimostrare quanto valgono e devo dire che il campo poi ha raccontato una partita assolutamente emozionante e bellissima. Per quanto riguarda le prestazioni, tanti giocatori hanno giocato bene. Ovviamente non si può non citare Lukman, che ha fatto una partita assolutamente importante, ma è stato anche un giocatore di gruppo. L'immagine di Lukman, che va da De Kettler disperato per essersi mangiato un gol e lo tira su dicendogli come per dire «Dai, non fa niente, adesso recuperiamo». È emblematica di come il gruppo abbia lavorato e il gruppo abbia cercato questa vittoria. Ma più in generale davvero tanti giocatori hanno giocato bene. Scalvini, che ha avuto le solite sbavature in difesa, e io ormai lo reputo più un centrocampista, ha fatto un'azione in attacco recuperando due palloni incredibile. Pasali ci ha raccoltato un sacco di seconde palle. Jim City, mezzo rotto come Scalvini, ha comandato a bacchetta tutta la difesa, dirigendo tutti i compagni con una grande, grande, grande tenacia. E guardate che l'infortunio di Jim City comunque è brutto. Non è che ha giocato a cuore leggero. Ha stretto i denti e ha fatto una grande prova di carattere. Ovviamente poi bisogna citare, per forza di cose, anche Miranciuk, che viene chiamato in campo poche volte, però anche lui il suo contributo è riuscito a darlo. Fa espellere Calabria e poi fa l'assist della vittoria. E ovviamente Muriel, che regala una giocata clamorosa, una giocata che solo Muriel può fare. È un giocatore che purtroppo è la sua croce e non ha continuità. Se avesse continuità sarebbe tranquillamente uno dei giocatori più forti al mondo. Però ci regala spesso e volentieri delle magie clamorose che davvero lasciano a bocca aperta. Lascio in fondo l'ultimo capitolo, ovvero The Kettler, perché anche ieri a me è piaciuto il ragazzo. Ha giocato molto, si è speso tantissimo, si è mangiato dei gol clamorosi, ma ha una certa, io credo, che o ti hanno fatto una macumba e quindi quella palla lì non va mai dentro, oppure è questione di avere pazienza perché a giocare così, a insistere così, a provarci così, prima o poi la butti dentro e non smetti più. Cioè non ho mai visto io un attaccante spendersi così tanto, creare così tante occasioni e non riuscire a capitalizzare. Quindi davvero credo che sia solo una questione un attimino di pazienza e anche un po' di fortuna perché la prestazione comunque c'è assolutamente tutta. Ora, io credo che questa vittoria di gruppo serva innanzitutto alla squadra, serva a dare consapevolezza alla squadra che nonostante il mercato che ha dei buchi, gli infortuni e quant'altro, la squadra può, se ci mette la testa, se ci mette la giusta determinazione, se ci mette la giusta convinzione, può andarsela a giocare con chiunque in questo campionato. È una prova importante e avere la consapevolezza, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, è sicuramente qualcosa di importante. Io spero che questa possa essere un po' una partita svolta in cui la squadra recupera l'entusiasmo, recupera la fiducia in se stessa, recupera anche un po' la voglia di giocare, perché ieri c'era un clima proprio positivo, proprio un clima da Atalanta e la speranza è veramente che questa cosa possa continuare anche in futuro, perché quando il clima è così, Atalanta può fare grandi, grandi cose. Ora non ci resta davvero che testa bassa, provarci e riprovarci, se va male una volta non scoraggiarsi, testa alta, continuare a crederci e poi vedremo che sarà. Io come al solito vi ringrazio, tutti i riferimenti in descrizione, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!